Sostanze vietate addirittura per uso veterinario, tutorial su internet per imparare a usarle. E' lo scenario che si è aperto grazie all'indagine contro il doping svolta congiuntamente dai poliziotti del commissariato di Omenia e carabinieri della sezione di polizia giudiziaria di Verbagna, coordinati dal PM Sveva dell'Iguoro. Tutto è cominciato nel 2016. Questo febbraio il GUP ha inflitto condanne nei confronti di 5 persone. L'inchiesta è partita dal ritrovamento di sostanze dopanti in casa di due culturisti verbanesi, AP e DC, sequestrate diverse compresse di farmaci diuretici e una boccetta di ormone della crescita di provenienza cinese. Dai cellulari dei due gli investigatori hanno ricostruito contatti con un preparatore atletico di una nota palestra di Verbagna, AB, che richiedeva farmaci dopanti da rivendere, e con un altro soggetto domiciliato nei pressi del lago di Garda, AR, preparatore atletico e bodybuilder, che attualmente si trova in carcere per omicidio. È emerso che alcuni degli indagati realizzavano dei videotutorial diffusi in internet per mostrare come usare le sostanze incuranti dei pericoli per la salute. Nel dicembre 2016 sono state eseguite diverse perquisizioni con ingenti quantità di sostanze sequestrate, tra cui ormoni anabolizzanti, testosterone dalla Moldavia, diuredici, steroidi, addirittura un farmaco da iniettare per uso veterinario per i bovini. Tutte le sostanze sequestrate sono state analizzate, sono stati confermati i principi attivi dopanti, tutti proibiti e non sottoposti ai controlli AIFA. Le ulteriori indagini hanno portato a identificare e denunciare anche un'altra persona, LFDL, culturista verbanese, come spacciatore di sostanze dopanti. Tutti gli indagati sono stati condannati dal GUP Elena Ceriotti, con rito abbreviato per utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti. Le pene vanno da 11 mesi a un anno e mezzo di reclusione e 4.400 euro di multa. Uno degli indagati ha patteggiato 10 mesi e 20 giorni 2.600 euro di multa. Grazie. Grazie. Grazie.